Ok, grazie. Sì, intendo semplicemente specificare come ultimo intervento, diciamo così, sull'emendamento quarto, perché mi sembra di capire anche dagli interventi che stanno seguendo appunto la discussione che non si è chiara una cosa. All'interno del deliberato viene richiesta la singola conferenza di servizi delle attività ad oggi esistenti per chiarire la situazione relativa alle concessioni, convenzioni e relativa ai pagamenti dell'occupazione di suolo pubblico nonché a tutte le autorizzazioni anche urbanistiche che hanno seguito alle concessioni date a questi gestori. All'interno del deliberato in ultimo parliamo del futuro, quindi del piano di settore, di quello che sarà il futuro del punto verde infanzia e quindi delineiamo quello che nelle future concessioni, quelle che ad oggi ancora non esistono, sarà concesso. Naturalmente questo punto nel dettaglio mi è stato sottolineato come esigente da parte dei municipi che hanno visto, sempre a seguito di quello che abbiamo detto nelle premesse a causa di tutta la confusione sia normativa che disciplinare proprio per quello che riguarda questo tipo di attività, hanno visto interpretare l'azione dello spettacolo viaggiante sui territori in maniera errata, quindi spesso è riconducibile anche ad attività di ristorazione e quindi naturalmente all'esigenza anche di bagni simili. Per limitare e appunto, ripeto come ho detto prima, è semplificare l'azione dell'amministrazione, quindi la gestione e il rapporto tra l'amministrazione pubblica e questo tipo di attività anche naturalmente con i loro gestori, abbiamo deciso di limitare per il futuro, per le prossime concessioni, le autorizzazioni ai sensi del regolamento edilizio. Va da sé che limitare le autorizzazioni ai sensi di questo regolamento, mi limita anche concessioni relative a bagni e ristorazioni che ho portato solo a tiltoro e semplificativo. Questo è proprio volto a semplificare il rapporto tra l'amministrazione e lo spettacolo viaggiante, anche alla luce ripeto delle note ministeriali emesse per chiarire che cosa è previsto come allestimento di questo tipo di attività, quindi un'attività circoscritta e ridotta rispetto ai parchi divertimenti e quant'altro. Grazie.